Due pareri discordanti, quello del Ministero dei Trasporti e quello dell'Interno. Multe per chi sosta negli stalli blu senza pagare illegittime, secondo il primo, che prevede al massimo di far versare all'automobilista in questione solo la differenza dovuta, sanzioni più che regolari per il secondo. Nei comuni ci si interroga sul da farsi e in Veneto si viaggia in ordine sparso. Sulla questione i trebigiani hanno però un'opinione precisa. Meglio della multa far pagare la differenza? Sicuramente sì. Più corretto, più giusto? Secondo me sì. Sarebbe una bella idea quella di pagare solo la differenza del prezzo, perché comunque sì, è già stato pagato il parcheggio, per cui potrebbe essere una proposta corretta. Sinceramente credo che per dare un servizio di un certo tipo ai cittadini sarebbe meglio agevolarli. Riporta tutti alla realtà la comandante della Polizia Municipale, Federica Franzoso, le multe sono previste e non si scappa. Sanzione da 24 euro ridotti a 15 se si paga entro cinque giorni. Stiamo parlando di due pareri, non di circolari e men che meno di norme. La norma del codice stabilisce che il mancato pagamento della sosta porta a una sanzione che è quella prevista dal codice della strada. Ora si tratta di due pareri appunto di formi fra loro che meritano certamente di essere approfonditi, ma che restano sempre comunque dei pareri. Quello che vale per noi è la norma. Per la Polizia Municipale è caso risolto, anche perché il fenomeno di chi non paga la sosta da quando sono stati installati i sensori si è ridotto, come dimostrano i numeri del 2013. Su un totale di circa 86.700 verbali, queste soste incidono l'articolo 7,15 per circa 1.100 verbali, di cui solo la metà, per il mancato pagamento del prolungamento della sosta. Quindi 550 verbali, non cifre elevate.